Storie di accompagnamento ai poveri e di impegno per il rispetto della dignità umana sono state quelle raccontate dalle protagoniste della seconda edizione di Voices of Fate nella giornata internazionale della donna alla Casina Pio IV in Vaticano. A promuovere l'evento, contrassegnato da testimonianze, riconoscimenti e soprattutto una fede profonda, la Fondazione GOATS con la collaborazione di Caritas Internationalis. Tra le partecipanti Mukti Bosco, cofondatrice di Healing Fields, ONG indiana che si occupa di rendere l'assistenza sanitaria più accessibile ai poveri e agli emarginati. Selezioniamo delle donne provenienti da gruppi di autoaiuto e da istituzioni di microfinanza. Offriamo loro un programma di un anno di formazione che comprende anche i concetti base che riguardano in primo luogo la salute, l'alimentazione, i servizi sanitari, l'igiene, l'igiene nel periodo mestruale, l'accesso ai programmi statali, i piccoli prestiti disponibili nel sistema microfinanziario per costruire strutture igieniche. E in secondo luogo, anche dopo aver fatto educazione preventiva, le persone continuano ad ammalarsi. In India l'80% delle persone deve pagarsi le cure mediche, quindi nei villaggi abbiamo cominciato a formare gruppi di risparmio per le cure sanitarie, in cui le donne mettono da parte piccole somme e se un membro della famiglia si ammala, possono prendere un prestito e rivolgersi ai centri ospedalieri convenzionati, dove acquistare servizi sanitari scontati. E la terza parte del nostro programma riguarda l'autosostentamento per le consulenti sanitarie, che vivono nella comunità e che si occupano ciascuna di circa 250 famiglie. L'impegno delle donne non conosce confini nemmeno nelle realtà di conflitto, come in Africa o in Medio Oriente. Mary McFarland, cofondatrice di Jesuit Common, Higher Education and Emergence, che si occupa di educazione in aree disagiate. Grazie a Jesuit Refugee Service, all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e altri, vi è un maggior riconoscimento dell'importanza dell'educazione superiore per preparare professori, operatori del mondo economico, operatori psicosociali. Pertanto dobbiamo portarla in luoghi dove le persone sono certamente in grado di riuscire, ma hanno difficoltà ad accedere all'educazione superiore. Quindi la nostra missione è quella di portare l'educazione superiore agli emarginati e anche poi di ascoltare attentamente coloro che vi si impegnano. Papa Francesco, nell'Angelus dell'8 marzo, ha ribadito l'importanza e la necessità della presenza femminile nella vita. Un mondo dove le donne sono emarginate è un mondo sterile, perché le donne non solo portano la vita, ma ci trasmettono la capacità di vedere oltre, vedono oltre loro. Ci trasmettono la capacità di capire il mondo con occhi diversi, di sentire le cose con cuore più creativo, più paziente, più tenero. Dalle parole del Pontefice dunque ancora uno spunto e una sollecitazione. Mukti Bosco. È molto, molto importante e ritengo che confermi l'opera che persone come noi portano avanti. Convalida il nostro impegno e significa che noi prendiamo sul serio le parole di Gesù, che ci ha detto, andate nel mondo e curate nel mio nome, andate nel mondo e rendetevi utili. Questo è esattamente quello che dice il Papa.